Ciao ragazzi! Benvenuti, benvenuti nell'area YouTube del convento di Lonato! Siamo qua ospiti di un bellissimo ragazzo che si chiama... Mattia! Vieni da dove Mattia? Da Verona, non chievo! No, non da Chievo Verona, è solo la tua squadra del cuore? No? Neanche, quindi solo ella, so che... Lo prendo per il culo! Mattia, ti sposi con chi? Con Cristina! Con Cristina, il? 17, 12, 2011! Fallo vedere bene, ok, perfetto! 17, 12, 11! Ok, perfetto! Quindi, sei sicuro di sposarti? Sì! Fai allora un bellissimo appello d'amore alla tua bella, che prima dell'appello, gli metto subito il cuore in pace, che nella seconda parte della nottata, il tuo Mattia andrà a festeggiare a night! ha già prenotato la serata ai suoi amici, con ospiti i giocatori dell'Elas Verona, ok? Tutto la storia! Adesso un ragazzo in attimo di silenzio, così Mattia fa l'appello d'amore alla sua bella! Primo piano! Vai! Aspetta! Vai, vai, vai! Ok, vai! Un bel primo piano! Amore mio, scusa, c'è la mia vita che mi fa creare, guarda pazienza, non farò mai più, guarda la sua vita, ho delle bestie che mi stanno festeggiando, e le toccando, e le voglio di andare! Li stanno toccando anche nelle parti intime, e li sta piacendo! Quindi dopo questo appello d'amore alla tua bella, siete pronti a cantare? Che bello! Vai! Scusa, io non lo so! Scusa, io non lo so! E le gattie, tutti i slime! Le comincia! Ah! Scusa, scusa, Mi mette le fotografie, che tu hai convinto a porta qui le mie, e poi lo sappiamo, c'è tale paranoia! Ehi! E fate le foto accanto a noi, e entrate nelle nostre vite, e poi scappate di corsa, per non tornare mai! Ma il tempo, Jack! E si è mai tanto il uso, ma il tuo sorriso dopo, il mondo si hanno buttato! Il nostro sposo! Sì! 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 All'improvviso e dice voi, non capite un cazzo e un po' come nel caso, è la dura legge dell'elio, ma è un grande gioco però, se non hai difesa gli altri segnalo, poi di loro loro stanno chiusi ma, hai la prima opportunità, sai con il subito e la putta dentro a noi, la putta dentro a noi. Il tipo con il cappellino blu, nel mio cuore arquello che sei tu, mi sape anche il cesso, te lo teme di su. E quella nella foto accanto a te, non è il fenomeno della tua ex, quella che diceva, c'è il loro ometto. Questa si realizzate l'uso, quasi quando ho reso torri, credo ci hanno buttato. Si alza dalla seda del bar chiuso, lentamente ci sta l'improvviso dicendo, abbiamo figo tutto e un po' come nel calcio, è la dura legge dell'elio, già riprenderanno però, che spettacolo quando soffriamo noi. Non vogliamo mai, loro stanno chiusi ma, cosa importa chi vincerà, perché in fondo lo squadrone siamo noi. Deveva farla legge dell'elio, già riprenderanno però, che spettacolo quando soffriamo noi. bravo un applauso festeggiato Mattia